Buongiorno ragazzi, dopo una settimana di yoga siamo pronti, siamo cari, conosciamo il nostro corpo, la nostra mente e oggi, queste sono tutte sottigliezze per essere delle persone eleganti, ma non solo nello yoga, che ridere, tutti in posizione facile Oggi faremo una posizione molto semplice, Asuka Namadopatra, tutti insieme! Allora, la faremo durare solamente 40 minuti Vai, dai ragazzi, mancano solo 39 minuti, dai Lo sforzo è minimo, massimo risultato Perfetto Espiriamo Tenete 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 Espiriamo Grazie 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 Grazie